Sì Carlotta dimmi, dimmi 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 tutto, c'è un'altra cliente ok mamma mia speriamo sia l'ultima non ne posso più valla passare dai 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 Sam prego si accomodi venga venga si si da pure qua sulla poltrona aveva prenotato per caso aveva prenotato un taglio un shampoo un taglio ok anche il colore no ok taglio lavaggio shampoo e basta ok si 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 da pure, ti giuro la testa io adesso le lavo i capelli con l'acqua tiepida ovviamente non caldissima ma neanche fredda e le userò questi due prodotti ok oggi usiamo questi due prodotti della Carnier Fructis che sono due prodotti nuovi che le straconsiglio assolutamente uno questo qui Carnier Fructis per capelli normali e questo qui sempre della Carnier aloe vera air dry cream senza risciacqua e anche senza phon oggi non andremo ad asciugare i capelli col phon ma tamponiamo un po' la sua cute e il suo cuoio capelluto senza risciacqua sui capelli normali questo qui shampoo e balsamo non ce l'ho lei usa spesso i balsami io oggi purtroppo non ce l'ho mi mancano mi devono arrivare in settimana se oggi faremo senza balsamo va bene lo stesso questo comunque funge quasi come un balsamo perchè è cremoso morbido appunto senza risciacqua 400 ml questo invece questo qui 250 ml è un classico shampoo iniziamo subito parlo a bassa voce perchè sono distrutta e sono senza voce e voglio anche cercare di rilassarla se riesco iniziamo subito chiuda anche gli occhi certo si va benissimo adesso le lavo i capelli con lo shampoo che l'ho mostrato prima si rilassa chiuda gli occhi non le faccio male non si preoccupi chiuderemo e l'ho mostrratulations qui muette qui muette i polleri şaguè qui ok, voilà adesso li asciugo adesso li asciugo ecco qua ecco qua ok, si aspetta, ecco glielo metto qui l'asciugamano glieli tampono un attimo ok, glieli tampono si, si frizioniamo un pochino e poi le metto sulle lunghezze e sulle punte quel prodotto della Garnier all'aloe vera, ok si, certo si, si, non è importante che mi veda lei è la prima volta che viene in una centro benessore da me, come parrucchiera nel mio salone di bellezza ecco, il centro benessore si, o anche un centro benessere si ho talmente tanti negozietti diciamo così che faccio confusione ok ok, ok frizioniamo bene questi capelli scusi la luce gialla si, forse le dà fastidio però se spengo è un limbo anche perché il sole oggi non lo vediamo ok, metto a posto un attimo ok voilà perfetto quindi questo mi fa poi sapere se le piace se le è piaciuto comunque mi faccio sentire senta che profumo ha un profumo buonissimo questo prodotto si delicato, buono tè verde, tè verde, zinco, piritione e questo qua invece aloe vera adesso glielo passo si adesso glielo passo sui capelli un po' così giusto una punta ok è come un sapore liquido vedete si esattamente come un sapore liquido si qui abbiamo tutto per i suoi capelli certo 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 ho aperto da poco questo negozio di parrucchieri si facciamo anche i trattamenti per uomo certamente lei ha dei capelli corti quindi si asciugano in fretta fortunatamente ok va benissimo ok spero che con l'acqua non le abbia dato fastidio non era troppo calda vero? perfetto ok allora ah si poi li tagliamo dopo certo si si adesso ne metto tanti un pezzetto un pochino di questo vede è gelatinoso non so se lo vede è gelatinoso si ok beata lei che li ha corti i capelli si io li ho lunghissimi li devo sempre tenere legati ah lo so i capelli lunghi vanno curati spesso e volentieri si si lei ha anche la frangetta la vuole lasciare la frangetta? si ok quindi andrò a tagliare anche se li ha già corti vuole proprio una spuntatina giusto una spuntatina ok vado a risciacquammi le mani un attimo perchè è un po' gelatinoso questo si ok 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 voilà ok perfetto adesso vado ad asciugarle cioè si asciugano i capelli senza fonoci con quel prodotto lì vado a tagliarle i capelli giusto la spuntatina mi ha detto ok si si rilassi è da anni che ho fatto questo lavoro anche se questo negozio è da poco che l'ho aperta non voglio far male a nessuno certamente si rilassi eh si rilassi sento che profumo mamma mia tra lo shampoo e quel prodotto e l'aloe uscirà di qui profumata come una mammola ok basta ancora una puntina qui così ok voilà adesso i capelli li lasciamo così senza farci niente assolutamente gli do giusto una passata per vedere quel prodotto all'aloe se ha fatto effetto si si bisogna lasciarli asciugare al vento lei li ha corti quindi in due minuti si asciugano ok come si trova? come sta? tutto bene? si è trovata bene finora? non le ho fatto male vero? perfetto è nuova lei come cliente quindi ci sono clienti nuovi vecchi diciamo così tra virgolette vecchi lei è nuova e quindi voglio farmi una buona impressione parlo con questa voce sì non tanto perché ho mal di gola perché non ce l'ho ma per rilassare i nostri clienti parliamo tutti con questa tonno di voce basso calma e tranquillo sì certo lei ha un fidanzato un marito qualcuno un figlio magari può farci un po' di pubblicità certamente sì se si è trovata bene ci fa piacere e ci fa anche piacere per avere un po' di gente nuova che viene qui da noi a farsi coccolare 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 ok sì non lasci perdere i rumori ok io bene direi cosa ha per i capelli ah sì perché gli ho lunghissimi a me piacciono lunghi certo ok quindi questi prodotti qua e li consiglio sia questo anche questo io mi trovo pienissimo sia su di me che a usare questi prodotti della Carnier sulle sulle mie clienti certo sì anche fanno bene anche per uomo soprattutto questi qua shampoo anche i balsami vanno bene per gli uomini questo secondo me è un po' più femminile diciamo così un po' più da donne solo ma gli shampoo sia della Carnier anche quelli della Carnier ultradolce quelli della Sunsilk più o meno della Pantene non è che mi fanno impazzire ognuno ogni parrucchiera usa quello che vuole quello che preferisce certo io mi trovo meglio con la Carnier come marca sì anche economica rispetto alla Pantene che costa il doppio certe volte vabbè ok finito vado a pure poi sia alla casa della mia collega o dal mio collega a pagare adesso posso stare ancora lì sulla poltrona a rilassarsi un po' io vado da un'altra cliente sì poi chiudo perché oggi basta ho lavorato troppo a presto spero che ritorni da noi da me soprattutto a farsi fare altri trattamenti ai capelli alla cute al cuoio capelluto e se sei trovata bene ritorni e ci faccia un po' di pubblicità grazie arrivederci a presto a presto